Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Sono su di sopra, nuova location Scusate, chiedo la porta Allora, raga, faccio un video proprio promisato, sto registrando Sono le 21.10 del 23 gennaio Scusate le labbra Ma, c'era freddore, sapevi Scusate Se vengo qua a registrare perché Niente, così A proposito Andate a vedere il video che è uscito Ieri Per me è ieri Per voi sarà Altro giorno, per modo di dire Andate a vedere perché mi sa che ho fatto poche L'hanno visto poche persone E quindi, raga Spero che Se stiate vedendo Che andiate a vedere questo, quel video Non so io Adesso Questo video esce giovedì Lo sto pre-registrando Il 23 Sì, 23 Vediamo, raga Sì, 23 Dove sempre controllare Per non difesserie Quindi Sempre registro col telefono Volevo registrare con la videocamera Dopo c'erano tutti sti casili Raga Se niente Comunque, raga Ho già fatto questo video così Lo so che Io di norma Dovrei avere Dovrei fare Dovrei fare Il giovedì Giovedì Il gameplay Però E allora Martellà Blablabla Lunedì E giovedì Gameplay E domenica Vlog o video improvvisato Ma Gio, questo è giovedì Video improvvisato E domenica Vlog Non so cosa fare Farò questo Bro Scusate mi si è tagliato la testa Però, raga Sono tutto sul letto della stanza Comunque Niente Spero che vedo questo video vi piaccia Iscrivetevi Commentate Con le rete E niente Attivate la campanella Niente Spero che vi piaccia Però Niente Ho già fatto Ho già Anticipato Niente Raga Video abbastanza corto Però Speriamo E niente Concludo qua Ciao Alla prossima sera Bực Io